Hanno trascorso la prima notte in ufficio sopra una brandina, non per protesta, ma perché dopo cinque mesi senza stipendio non hanno più i soldi per raggiungere il posto di lavoro. Non sembrano avere altra scelta una ventina di dipendenti della sede staccata della provincia di Vibo Valencia che da stanotte hanno deciso di dormire negli uffici di Palazzo Gemini. Il loro malcontento è racchiuso in questi fogli affissi su tutti i muri. Si appellano alle istituzioni e si chiedono il perché di questo assordante silenzio. Abbiamo deciso di rimanere qua perché non ce la sentiamo di dichiararci falsamente ammalati. Forse qualcun altro nelle stesse nostre condizioni ha pensato bene di rimanere a casa e darsi ammalato. Noi la mia coscienza me lo impedisce, per cui ho pensato bene, visto che non ho i soldi per mettere la benzina per venire a lavorare, allora dico non ho i soldi per mettere la benzina per tornare a casa, quindi rimango qua in ufficio, svolgerò il mio normale lavoro durante le ore di servizio, dopodiché rimarrò qua. Da quanti mesi non percepisce lo stipendio? Quest'anno diciamo ci hanno pagato solo un mese, quindi faccio i conti lei. Siamo al sesto mese, siamo a giugno. Che rassicurazioni vi danno dalla provincia? Assolutamente nessuna rassicurazione, quindi tutto tace.